Allora siamo arrivati adesso, prima pista del giorno, molto presto, si aspettano nove ore di discese, qua c'è gli scherponi, gli altri due sono in bagno, c'è fatto l'incidente, abbiamo già fatto l'incidente sulla seggiovia, due il Dave, e adesso ci vedrete direttamente dalla GoPro per fare qualche bella pista slalom. Allora siamo arrivati adesso, speriamo, ecco, 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 ecco. Grazie a tutti Eccoci qua Sono i salti che adesso andiamo ad affrontare Ma io ti dico, proverei anche il terzo piuttosto più piano No, il contrario Fai i primi due, ti fai più male Devi essere sicuro sul primo E devi essere perfetto sul secondo Sei sicuro sul primo e perfetto sul secondo Non hai visto come è stato il primo Il primo è sicuro Il primo è sicuro Ciao amici Io sono arrivato Adesso non so di che punto di vista sarà Questo è il 3.000 Ma è un 3.000 speciale perché non si vede un cazzo Ce la godremo come dei dannati A few moments later Vai drop Ma vedi che sfoggia Sfoggia delle abilità omenti Ghandra non stai andando a funghi Bravo drop Fai finta che ci sia un porcino gigante Bello spazzaneve Bello spazzaneve Guardalo lì Bravo drop Vabbè l'importante è che ne riesca a bollire Raga siamo qua Stiamo mangiando Cioè stiamo bevendo adesso Una Due tre E poi ce n'era anche una quarta Per è andata Questo è Lui è un campione Chi sei tu? Quello che vincerà la coppa del mondo un giorno Tu sei Lui è assurdo Lui è ancora più assurdo Però lui è sempre più assurdo Come andiamo? È un po' tardi Abbiamo fatto le nostre sette ore Qualcosa Partiti alle otto e mezza Onesto E siamo qua alle otto e quarenta e sei Come vi è sembrato l'Evigno? Beh molto bene Ho masterato le piste No ce n'erano C'erano le poche Poche? Poche piste Che ne vanno? La piazza Ho preso un po' Che diceva delle piste Adesso vediamo se ci sono ancora poche piste Sono poche Ci sono in piacchia molto più grande Ci siamo goduti l'ultima salita col tramonto Tieni Guarda sto cosa Sto caicchio Vediamo Lungazza piste totali 115 km Direi che ha più di Bormio 115 km Mi sembra piccolino? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.